ciao allora oggi parliamo di uno dei miei argomenti preferiti quindi le sopracciglia perché sì non posso fare a meno delle matite per sopracciglia lo sapete e oggi vi parlo di questa matita della benefit la precisely my brown pencil questa qui allora ve la tiro fuori ma prima di tutto vi dico che è la mia nel colore 4,5 allora partiamo prima dal tutto dal pack è qualcosa di spettacolare questa non è una matita per sopracciglia è una penna una bacchetta magica è bellissima da tenere nella make up collection sulla postazione trucco questa è bella da vedere sicuramente ma vediamo anche se pratica cosa interessante prima di tutto il prezzo 0,8 grammi viene 29 euro da sephora allora vediamo la vedete quale mostro prima poi vediamo il test allora questa ok allora vediamo cosa dice 12 ore wear waterproof quindi tenuta 12 ore è scritto sia in inglese che in francese perfetto i like sto quindi effetto pelo a pelo smooge prof color si dice che non cola e mina retraibile ne se fa il pa non si rompe insomma insomma allora prima di tutto è vero alla mina retraibile ha una mina molto molto sottile come potete vedere ok credo che la mia è proprio finita ma comunque abbiamo fatto il test e per prima cosa ovviamente ti mostro l'applicazione e Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.